Terza giornata oggi per lo Sciacca Film Fest proposto dalla Vertigo SRL di Sino Caracappa. Tra gli appuntamenti odierni, il penultimo incontro della Bill Summer School, il seminario sul linguaggio pubblicitario e sulla comunicazione. Oggi previsto l'incontro con Maria Nadotti, che parlerà del suo libro Necrologhi, edito dal saggiatore, nel quale ha affrontato i temi della pubblicità sessista. Poi, come sempre, spazio ai film. Alle venti la proiezione di Sula Muri di Giovanni Volpe, con Giorgia Flora, Angelo Costanza e Giovanna Dominici. Non mancherà il consueto omaggio al grande regista Ettore Scola, con la proiezione del film del 1976, brutti, sporchi e cattivi, preceduta dall'introduzione di Raimondo Crociani, montatore del film. Tra i protagonisti della pellicola, come si ricorderà, Nino Manfredi, Maria Luisa Santella e Linda Moretti. Dalle 20.30 alle 22.30 sarà possibile prendere visione del film Il Drago Invisibile, del regista David Loveri, e del film Revenant, Redivivo, di Aleandro Gonzales in Arritu, con Leonardo Di Caprio, entrambe produzioni americane. In programma domani, invece, la presentazione dei due cortometraggi curati e diretti dall'artista Franco Accursi Gulino. Il primo intitolato Pittura, con Alfonso Veneroso, e le musiche di Ivan Segreto. Il secondo intitolato Raccomandata di Ferro, con Anita Lorefice, montaggio di Nino Sabella e musiche di Accursi Antonio Cortese. Dal 21 al 24 agosto, infine, appuntamento con i concerti proposti nell'ambito della rassegna Sciacca Classic Fest, in collaborazione con il Conservatorio Scontrino di Trapani.